Adesso vi facciamo vedere, guardate, non so se avete un calidoscopio o se l'avete mai visti, no? Questo si chiama cromatropio, guardate che bei giochi di colori che fa. Ebbene, aveva ragione il bambino che diceva che il leone di prima non fa paura, non fa paura più, però guardate questo è bello anche dopo 200 anni, o no? È bello o brutto questo? Ah, vedi che allora, ricordate che le cose vecchie non sempre sono brutte, questo vale anche per gli uomini, ricordatelo sempre. Dai, per lo mettete presente, perché...